Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in direzione mare tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina è chiuso lo svincolo di Montelupo Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in prunita sulla statale 64 porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato la viabilità cittadina a Firenze chiuso un tratto di via perfetti ricazoli per lavori Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio